Nonostante le varie piaghe, terremoti, tsunami e cavallette, nonostante tutto riusciti ad allenarci. Come arrivate secondo te a questa Coppa? Arriviamo allenati, sicuramente sì, arriviamo preparati, abbiamo messo tutto sul tavolo, non ci siamo tenuti niente in tasca, quindi bene, oggi devi rendere al meglio con quello che hai, c'è più da fare. Avete fatto qualche navigazione vicina con i neozelandesi? Ma non l'abbiamo fatta mai abbastanza vicina da poter giudicare performance, né noi nei loro confronti, né ovviamente viceversa, reciproca la cosa. Per cui rimane sempre il grosso dubbio della velocità della parca, da una parte e dall'altra. Abbiamo visto invece tanto di come manovrano, di come i schemi della partenza, posso sempre che è tutta roba che lascia il tempo che trova, perché poi il giorno della prima regata potrebbero fare qualcosa di completamente diverso. Quanto peseranno le partenze nelle prossime regate? Peseranno tantissimo, peseranno tantissimo nel caso in cui le bacche vadano con prestazioni in sicurezza, conteranno ovviamente meno, ma comunque sempre con un certo peso nel caso in cui ci sia una grossa differenza di performance.